Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi ragazzi è Match Day, si va a Regina Cagliari, ora sono a scuola, ci ribecchiamo dopo. Ciao ragazzi, siamo da Regina Store, qui sul Corso Garibaldi, sono le ore 12 e mezza, tra un po' ci dirigiamo allo stadio, dietro la telecamera saluto a Inferi. Ciao ragazzi! Quindi ci ribecchiamo dopo, magari mentre andiamo allo stadio. Gradinata. Benvenuti allo stadio Ernesto Delillo per la trentissima giornata del campionato di Serie B, incontro tra Regina, 1914 Cagliari Calci. Reggina! Con il numero 22, Silvone Colaldi! 7, Giorno Luni! No, no! Con il numero 8, Lorenzo Kristevich! Con il numero 14, Giovanni Fabian! allenatore Filippo Izzavini! Allenatore Filippo Izzavini! Allenatore Filippo Izzavini! Bari Filippo Izzavini! Allenatore Filippo Izzavini! Farci la mostra per la lotta a te! E che non è mai finita! Mancosu, Azzi, può andare il ritro brasiliano, fa Paolo Azzi, parte il cross in area di rigore pericoloso, pallone sulla linea, Padula, la Padula, parte la Padula col sinistro, la Padula, 2 a 0 Primo tempo 2 a 0 ed è abbastanza vergognoso Va col destro Mancosu, parte Mancosu, spiazzato per il 3 a 0 il portiere Colombi Mancosu, 47 e 20, cross sulla Padula, colpo di testa, è solo davanti al portiere, non può fallire l'appuntamento con il pallone per il gol del 4 a 0 Quindi ragazzi, partita finita 4 a 0, non l'ho più registrato dopo l'inizio del secondo tempo Perché ero proprio in una situazione dove non c'era nulla da fare, cioè registravo ma che registravo? Quindi questo vlog finisce qui, peccato per la sconfitta, vorrei lamentare un po' con tutti, con l'arbitro, anche con la squadra Non abbiamo reagito Quindi ragazzi, questo vlog finisce qui Da Nato22 Ciao Ciao Ciao